Un ragazzo come tanti, Carlo Cutis, scomparso nel 2006 a soli 15 anni per una leucemia fulminante, fin da piccolo viveva la fede in ogni aspetto. Si adoperava molto per aiutare gli altri e ha fatto della sua passione l'informatica un mezzo per testimoniare la fede attraverso siti web. Il 21 febbraio 2020 è stato proclamato da Papa Francesco Beato. La celebrazione della beatificazione è avvenuta ad Assisi nell'ottobre dello stesso anno. Nel convento di Larino è stata allestita dall'ordine francescano secolare dei frati minori Cappuccini la mostra I miracoli caolistici nel mondo. Noi tradizionalmente pensiamo ai santi nella loro maturità, non solo spirituale ma maturità biologica. E quindi abbiamo quest'idea di santo o di santa. Qui invece abbiamo un esempio completamente diverso. Abbiamo un ragazzo di 15 anni, un adolescente, un ragazzo che ha mostrato di avere una fede matura. Ecco perché parlavo di maturità. Perché di solito la fede ha un suo percorso, deve avere degli steps, deve comunque alimentarsi col tempo e con le esperienze della vita. Lui invece riesce ad avere una qualità di fede all'interno di un brevissimo periodo di vita. La mostra è una testimonianza di centinaia di miracoli riconosciuti dalla Chiesa che hanno per oggetto l'ossia consacrata avvenuti in vari paesi del mondo, ideata dal beato Carlo Acutis. San Francesco aveva abbracciato il lebroso e Carlo, nonostante fosse un giovane, un adolescente, riusciva a vedere le povertà, ma non solo quelle materiali, anche le povertà spirituali. Aveva un'attenzione verso i compagni di classe, quelli che magari a scuola avevano più difficoltà a fare i compiti. Aveva quell'occhio, che è l'occhio del cuore, con il quale lui riusciva a vedere la persona che aveva bisogno, magari anche solo di un sorriso. Un modello da prendere come esempio per i giovani che cercano l'autenticità. Pochi giorni fa nel discorso di insediamento, il nuovo presidente della Camera, Lorenzo Fontana, lo ha citato riprendendo una sua frase, tutti nascono originali ma muoiono fotocopia. E l'onorevole Fontana ha spiegato che bisogna scegliere della vita e di vivere per il prossimo, altrimenti si diventa fotocopi di altri o di altro e non si realizza il progetto originale che c'è per tutti noi.